Beato Sante, 800 anni sulle Orme di San Francesco. 14, 20, 22 e 23 luglio al Santuario del Beato Santi a Monbaroccio. Incontri, celebrazioni, concerti e ancora artigianato, rievocazioni storiche e mercatino medievale. Vi aspettiamo il 14, 20, 22 e 23 luglio al Beato Santi, Monbaroccio. Pagina Facebook Santuario Beato Santi.